nuovo richiamo alimentare in italia dopo che l'azienda dm bio ha reso noto il ritiro della purea di sesamo d'agricoltura biologica thain sesamus in confezioni da 250 grammi a causa di rischio grave per presenza di salmonella lotto ritirato si legge nelle segnalazioni sul sito del ministero della salute a scadenza il 21 febbraio 2025 al 25 febbraio 2025 ed è prodotto in germania il prodotto non deve essere consumato ma consegnato a uno dei punti vendita d'acquisto